Quali sono gli argomenti che tratterete durante questo weekend? Allora, si parlerà soprattutto di problemi di sviluppo legati allo sviluppo delle abilità di base nei bambini. Oggi sempre più bambini certificati e non hanno delle piccole incompletezze nel loro sviluppo e incompletezze che li portano poi ad avere anche delle difficoltà, anche scolastiche. Siccome queste incompletezze spesso sono proprio nel corpo, è possibile attraverso il movimento e le stimolazioni proprio fisiche e uno stile di vita più naturale, è possibile aiutare questi bambini anche già a casa, anche da genitori, anche questo al di là delle cose terapeutiche che un bambino può avere bisogno. Quindi parliamo proprio della sfera quotidiana. Che cos'è la propriocezione? Allora, la propriocezione è la nostra capacità di muoverci nello spazio coerentemente, reagendo con tutti quelli che sono gli stimoli esterni. Quindi è proprio legata al movimento nello spazio. Sembra, uno non ci bada, ma molti bambini autistici, ma anche bambini che hanno piccole difficoltà, anche meno che l'autismo, hanno tutti, nessuno escluso, problemi di propriocezione. E questo cosa comporta? Dovendo gestire un corpo di cui non sono totalmente padroni, un corpo fisico, di cui non sono totalmente padroni, hanno difficoltà anche a concentrarsi, per cui spesso vengono etichettati come svogliati i bambini oppure iperattivi, i bambini che semplicemente stanno cercando il movimento proprio per avere percezione di se stessi. E quindi sviluppare questa capacità può aiutare nella prevenzione di questi disturbi? Sì, assolutamente sì, ma lo vediamo. Ma lo vediamo già concretamente. Cioè ci sono genitori che, capito il bisogno che i bambini hanno di movimento e aiutandoli a soddisfare questo bisogno quotidianamente, li vedono subito migliorare.